La prima nevetta non è ancora riuscita a seppellire gli stecchetti, ma un giretto si può fare qui sullo... Eccoci in cima all'arrivo della seggiovia che chissà perché non disturba paesaggisticamente nessuno nei dieci mesi in cui è solo ferraglia spenta. Ma perché angustiarsi? Anche oggi il sole splende nel cielo sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Grazie a tutti!